Tu lo sai cosa mi hai detto? Sì, certo Che sono una bugiarda, che non capisco niente, che sono sorda E tutta una serie di illazioni Sulla mia persona Te la faccio sentire che cosa hai detto, senti Ma non lo ricordo No, ti rinfresco la memoria perché secondo me ti serve No, io guardo, io guardo, io dico Che c***o mi viene a dire che io sono stonato come una campana, ma ci senti? Ascolta Ma ci senti o cosa? Sono stonato come una campana, ma scusami Le persone sono stonate, allora c***o Innanzitutto tu non devi guardare gli altri No, 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 ok, adesso guardo me stesso Perché quando guardi gli altri, perdi il punto di vista Bene, ma se tu mi viene a dire Che io sono stonato come una campana, ok? Per due pezzi che ho sbagliato, ok? Vi fermate, grazie, basta così Intanto si vede, per 40 minuti mi hai detto solo parolacce e tutta una serie di improveri Sei maleducato? Non si fa così? Per chi non credo di essere stata nei tuoi confronti maleducata Ho espresso oggettivamente un pensiero Al quale tu avresti potuto ribattere tranquillamente in puntata e dire Non sono d'accordo Tutto quello che hai detto dopo, per 40 minuti È offensivo e riguardoso nei miei confronti È offensivo e riguardoso nei miei confronti maleducati Grazie a tutti